Buonasera a tutti, oggi è domenica 3 luglio, sono le 21.15 e prima di mangiare facciamo il punto su quella che è la centratura ciclica del biennale sull'indice italiano il Fuzzimib. Come avrete ascoltato nell'analisi seguenti a questo minimo del 7 di marzo, segnalavo proprio a marzo che per quanta salita avremmo fatto, e ne abbiamo fatta tanta come rimbalzo, saremmo dovuti ritornare sotto questo minimo a 21.060 punti. Perché? Perché l'annuale e il biennale non potevano essersi chiusi a 161 bar l'annuale, soprattutto il secondo annuale, e che quindi, con una bella finta rialzo, in tanti avrebbero pensato la partenza di un nuovo ciclo almeno di grado annuale, e invece, dopo aver fatto una forte sparata, non avendo violato lo swing per la partenza di un nuovo ciclo, di nuova onda annuale, abbiamo iniziato piano piano a perdere forza e a scendere. Quindi, quello che veniva indicato a marzo, si è avverato esattamente il primo di luglio, a 3-4 mesi di distanza. L'analisi era corretta, aveva senso andare short, sui top, sia di medio che di breve. Questa è la valenza nei fatti, non a livello di opinioni, nei fatti dell'evoluta, della mia evoluta. Qualche cosa che è partito da analisi tecnica, candele giapponesi, ha incontrato poi l'analisi ciclica di Hurst, ha incontrato Gunn, e ha fuso tutto insieme. Insieme ai volumi, peraltro. E questi sono i risultati, appunto, di tanti anni di trading, tutti i giorni davanti ai monito. Da quando ero ragazzo, sostanzialmente, quando c'era ancora la carta millimetrata rosa, per l'esattezza. E da quando mio padre aveva sciaguratamente deciso di comprare delle torse curazioni, più o meno in questo periodo. Pura follia, sia a livello statistico che a livello di tante altre considerazioni fatte, ma nel lungo periodo poi è riuscito a riprendersi i suoi. È andata a finire bene, più qualche dividendo. Ritornando a noi, che cosa è successo venerdì? Venerdì, con il minimo a 21.023, quindi sotto i 21.060, noi abbiamo raggiunto, che cosa? Abbiamo raggiunto il target dato. Nonostante lo stacco di... Cioè, grazie anche a un discorso di stacco di dividendi, ricordiamocela bene questa cosa, ok? Lo stacco di dividendi conta un pochino più di 40 punti sull'indice italiano, quindi ricordiamoci che dovremmo fare riferimento al future. E che quindi è veramente chiuso l'annuale? La risposta la sappiamo, giusto? Quanto ha contato lo stacco di dividendi? Altra cosa interessante, se andiamo a guardare le forme dei cicli, sembra tanto che, utilizzo un'espressione che non mi piace molto, ma è giusto per essere un po' ironico, questo sia un t più 4 inverso, un ciclo semestrale inverso, da 101 barre a tre tempi, primo, secondo, terzo tempo. E che da qui sia partito un nuovo t più 4 inverso. Ne ha tutte le caratteristiche. Partito, tra l'altro, dal top del 30 di maggio, dopo lo stacco, appunto, dei dividendi. Anche questa è una cosa su cui rifletto. In questo caso, ricordiamoci che siamo solo a 244 giorni, e che abbiamo la condizione necessaria e sufficiente sia per la chiusura di questo mensile. 38 giorni è già tanto, ok? Sono 43 al massimo, 38 più 1. Uno perché la candela verde non conta all'interno del... Abbiamo da risolvere questa questione. Un quinto t settimanale ribassista che... Non può aver fatto soltanto 5 candele. Che tipo di raccordo è? Un t meno 1 lo mettiamo tra t più 1, t più 2, tra mensili? Arriva un altro mensile, quindi finta rialzo e poi ridiscesa sotto questi minimi? Possibile. Però rispetto al Nasdaq, che termina la possibilità di un annuale complessivo martedì barra mercoledì, e può rimbalzare, farà un raccordo, Ricordiamoci anche di guardare sempre le possibili connessioni tra un mercato e mercati guida come quelli americani. Avete visto l'analisi di ieri su S&P 500? Sapete che view, che punto di vista posso avere. Quindi, ragioniamo e mettiamo tutto sempre insieme. In questo caso. Qui il tempo è finito. Qui il tempo c'è per una chiusura di 83 giorni, massimo 84, ricordiamocelo, di un t più 3, poi si passa a queste durate qua, ma diventerebbe un semestrale. In questo caso, guardate come abbiamo fatto. Abbiamo fatto primo trimestrale cortissimo con raccordo, ovvero mensile con raccordo. Secondo trimestrale da 24, ok, 60 giorni. Poi abbiamo iniziato ad allungarci. Terzo trimestrale a 68, poi abbiamo ancora allungato a 83, andando vicino agli 84 giorni. Quindi, cortissimo, lunghissimo. L'avevate notato? Sono cose molto importanti, è da vedere. l'inverso, invece, a che punto siamo? 101, appunto, più 24. E guardate che discesa. Non siamo riusciti a superare la media mobile a 50 periodi in rosso, che è stata traforata per poco tempo, e poi abbiamo continuato solo a scendere con candele tipo questa. Essendo a 24, un rimbalzo ci sta per andare a chiudere a 25, 26, 27, tutto quello che volete il nostro T più 1 inverso. Ma in realtà noi la condizione ce l'abbiamo già, perché questo è un top comunque. Un mensile inverso con cosa chiude? con un sottociclo di 3 gradi ribassista. Quindi un T più 2 chiude con un T meno 1. e noi però qua il T meno 1 non ce l'abbiamo a ribassista. Abbiamo un pezzo di T meno 2. Quindi l'aspettativa per un rimbalzo, per un rialzo c'è. Ma bisogna capire anche in base agli swing, e questo ve lo metto ben chiaro, se riusciremo a far partire un T settimanale da qui o se continueremo a scendere. Perché ribadisco, qui anche fatto un rimbalzo, poi si può arrivare anche a 11 giorni. di settimanale e 1, 2, 3, 4, 5 più una candela non fa un settimanale corretto. Può farlo eventualmente in termini di ore. Perché la ciclica è evoluta, anzi, l'evoluta lavora anche solo in termini di ore. Da qui abbiamo 200 giorni, 200 varre da 15 minuti. A noi ne bastano 24 per 6, quindi sempre 2, 12, 120 e rotti, ok? Noi qui abbiamo tecnicamente un settimanale corretto che va a chiudere un trimestrale. Questo trimestrale. E con un trimestrale ribassista andiamo a chiudere tutto il resto. Ma ribadisco, ricordiamoci, lo stacco di dividendi. Quindi, per la prossima settimana iniziamo a vedere lunedì che cosa succede. Iniziamo a dare tempo perché ci sarà una festività negli Stati Uniti ai mercati di riaprire martedì. E poi vedremo perché qui la situazione si fa interessante. Se siamo in chiusura di finalmente un biennale poi ci può essere una forte ripartenza verso l'alto. però bisogna arrivare ancora più sotto. Quanto è cubato lo stacco di dividendi? Qualcuno se lo ricorda? Se ve lo ricordate mettete la risposta sotto il video di questa analisi. Questo direi che è quanto. Ricordatevi importante che si vada in chiusura di T inverso. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata anzi serata. Arrivederci.